Il polo più per dimensioni e per storia significativo che appunto quello che si ilva. Tra l'altro domani mi regerò a Copenaghen per alcuni incontri bilaterali col governo danese ed anche per un altro incontro con il vicepresidente e commissario alla competitività Vestager proprio per parlare delle modalità di questo prestito ponte che con le risorse pubbliche deve garantire il rilancio del sito produttivo nel frattempo in cui gli investitori internazionali e certamente anche italiani possono manifestare le loro intenzioni.